Siamo venuti qui a Ortona a provare il nuovo tracciato, la nuova configurazione con i telai di Albino Parolin in configurazione Academy e KF2. Il nuovo tracciato è più veloce dove le staccate sono molto più aggressive ed è molto più difficile riuscire ad avere una buona percorrenza, al contrario della vecchia pista dove le curve magari erano ammorbidite dalle S che c'erano nei piccoli rettilinei. Le curve più impegnative probabilmente sono la staccata in fondo al dritto dove c'è un lieve dislivello e l'ultima staccata prima dal rettilineo che riuscendo a fare una buona staccata e una buona percorrenza di curva si riesce ad avere una buona emissione per riuscire a fare tutto il dritto.